Carissimi amici, continuo la nostra promozione perché abbiate a casa vostra la nostra bellissima musica. 4 cd a soli 39 euro compreso spese di spedizione. Non dovete fare altro che chiamarci, darci il vostro nominativo e quando arriverà il postino che suonerà alla vostra porta non dovete fare altro che ritirare il pacco e consegnare 39 euro in contanti. Se poi preferite scegliere un'altra forma di pagamento come Satispay o Paypal all'interno del pacco troverete il regalo, anche una delle nostre bellissime mascherine di prossima fermata liscio. Ma abbiamo pensato anche a un'altra promozione per chi fa attività fuori casa, due bellissimi cd più la nostra bellissima t-shirt di Hens. Potete scegliere il colore, le taglie vanno dai bambini fino agli adulti e avete due opportunità o 100% cotone o il tessuto tecnico che sto indossando in questo momento io. Il tutto sempre a 39 euro compreso spese di spedizione ma le sorprese non sono finite qui abbiamo ideato anche un terzo pack con sempre due splendidi cd più questo comodissimo scaldacollo 100% cotone potete sceglierne il colore oppure al polso dello scaldacollo sempre due cd più questa comodissima pochette 100% cotone nella quale riporre tutti i piccoli oggetti che di solito abbiamo per mano e non sappiamo mai dove mettere. Il tutto a soli 36 euro compreso spese di spedizione. Non aggiungo altro aspetto le vostre telefonate perché abbiate a casa vostra i nostri bellissimi cd più l'arcobaleno di Hens. Vi aspetto!